7 ottobre buongiorno ben ritrovati la rassegna stampa di fano tv sul canale 17 c'è l'informazione in diretta cominciamo subito dalla prima informazione che è quella che leggiamo e potete leggere anche voi dal calendario ed è oggi una giornata importante bella soprattutto per i devoti del santo rosario adesso lo vediamo subito con il cartello è la beata vergine del rosario il sole sorgerà le 7 15 tramonterà le 18 e 45 adesso vediamo il tempo questa mattina cominciamo con l'animazione del radar che ci indica la situazione meteo in questo momento vedete al a partire dalle 5 30 e poi l'animazione si sposta di 10 minuti in avanti di 10 in 10 fino alle 6 e 50 quindi fino a minuti fa la situazione del tempo quindi con piogge che stanno interessando in questo momento la parte centrale dell'italia il bollettino delle protezioni civili invece per oggi andiamo a leggerlo nel dettaglio con l'animazione grafica prevede rovescio temporali sparsi localmente anche di forte intensità in esaurimento nel pomeriggio a partire dai settori settentrionali le temperature sono in aumento nei valori minimi in diminuzione nei valori massimi ci sono 20 di 20 tesi nella prima parte della giornata quindi al mattino sud occidentali con raffiche fino a burrasca nelle zone collinari e burrasca forte o tempesta nelle zone alto collinarie montane poi nel pomeriggio di oggi da nord ovest il vento con intensità in diminuzione nelle zone collinarie montane ma raffiche fino a vento forte lungo la costa quindi oggi non solo la pioggia ma anche il vento per quanto riguarda invece giovedì la giornata di domani come vedete dalla grafica c'è poco da dire il sole splenderà su tutta la regione con qualche annuvolamento soltanto nell'entroterra e qualche nuvolo anche per la giornata di venerdì sabato ancora tempo stabile poi discesa di una serie di perturbazioni porterà tempo instabile per la giornata di domenica e l'inizio della prossima settimana abbiamo selezionato tante pagine oggi a dire il vero nella nostra rassegna stampa quindi andiamo velocemente cominciamo dalla prima del carlino il la fotonotizia è per questa infermiera in prima linea durante il periodo brutto di marzo aprile tra l'altro l'infermiera michela venturi che è stata citata anche dal premier conto in parlamento insomma premi e dirigenti questo per dire che la delibera delle regioni finisce nel mirino minacciato lo sciopero premi e dirigenti lire dei medici ancora non si vede nulla mentre i liceali dicono stop alle lezioni a distanza non vogliono fare lezioni da casa vogliono andare a scuola vogliono sedersi sui banchi fare i liceali alla vecchia maniera ma insomma i tempi sono quelli che sono intanto la politica morani disastro pd serve un commissario scelto da roma mentre ci sono nuovi sconti sulle tasse per chi apre negozi in città a pesaro intanto ancora regole anticontagio dalla prima del carlino movida scuole bus la prefettura ordina controlli sull'uso delle mascherine verifiche denunce lavoratori in nero con il reddito di cittadinanza e poi un imprenditore fanese che protesta sulla mazzata tari 267 mila euro porto gli operai dice questo imprenditore in porto gli operai in comune poi la pellegrini fotografata con il cugino di magnini matteo e federica gli scatti rubati il comune decide invece lo stop a qualagna niente fiera del tartufo impossibile evitare assembramenti la prima volta dopo 54 edizioni il corriere adriatico tasse rimborsate per tre anni titolo d'apertura queste agevolazioni comprendono anche la tari e sono rivolte a chi apre una nuova attività no tax area in tutta la città di pesaro le stesse condizioni anche per gli studi professionali under 40 centropagine il virus cancella la fiera del tartufo a qualagna si deve arrendere e poi dopo le elezioni rese dei conti tra big del pd commissario per le marche il messaggio dunque è arrivato forte e chiaro nel day after della coccente scoffita a senigallia con il candidato sindaco volpini del centro sinistra che ha annunciato di non voler rimanere in consiglio il pd fa mea culpa ed abbozza una prima autoanalisi dopo giorni di quasi assoluto silenzio i pesi massimi del partito chiedono un rinnovamento radicale e invocano il commissariamento come abbiamo sentito anche da dalla deputata alessia morani covi del lavoro nero arrestato un imprenditore accusato di caporalato ragazza in verdosi invece al parco miralfiore salvata da un passante e a fermignano droga a chilometri zero un operaio coltiva e spaccia in casa sul digestore da 40 milioni preferenza a falcineto confermate le anticipazioni sullo studio di fattibilità vertice di aset in provincia con marche multi servizi e poi sindacati che chiedono chiarezza sul futuro della casa di riposo di monbaroccio andiamo sul carlino nazionale l'italia e i contagi in testa coda anticorpi al nord ora è più protetto clavenna dell'istituto negri dice dopo la fase intensa di marzo in lombardia il virus circola meno la campagna invece è la più colpita nelle marche un contagio su quattro avviene in casa il piceno bollente in provincia di ascoli ieri altri 42 casi pesaro urbino è il territorio meno esposto in ospedale un positivo ogni 28 i ricoveri passano da 34 a 35 sono sei le persone che si trovano in questo momento in terapia intensiva lo screening sui focolai in classe ha scoperto 40 positivi in sette giorni a fermo dopo il sindaco test rapido positivo anche per due assessori c'è un'intervista sul carlino di pesaro sulla questione covid e la sindrome dei guariti ci sono guai ai polmoni anche dopo mesi casi in aumento ecco tutti i segni che il virus lascia il dottor bartolucci segretario provinciale della film film dice il mio consiglio per chi ha superato il virus è di fare un attac dopo due mesi la chiamano sindrome post covid non è solo una debolezza cronica di cui risente anche a distanza di mesi chi è stato infettato da virus e si è negativizzato ma sembrerebbe una maggiore propensione ad ammalarsi di nuovo anche a livello polmonare in assenza di studi prospettici perché la nostra frequentazione con il virus è ancora troppo recente ci sono al momento le testimonianze di chi proprio non riesce a voltare pagina afflitto ancora da sensazioni di affanno malesseri gastrointestinali affaticamento e altro a cui si associa appunto la difficoltà da molti segnalata di farsi visitare anche dal proprio medico c'è un'intervista che potrete leggere appunto sul calino di questa mattina molti colleghi non fanno le visite se si seguono le linee guida si può stare comunque tranquilli intanto sulla pagina primo piano delle marche io e il covid c'è un'altra testimonianza questa volta e la fa di nuovo perché lo abbiamo già sentito anche nei momenti nei giorni più difficili parlo di marzo ed aprile Matteo Malaventura che è un campione di basket nato a Fano 42 anni fa ha esordito in serie A con la Scavolini Basket nel 1995 cresciuto cestisticamente nella società pesarese ha giocato anche nella nazionale under 18 è sposato con e ha due figli Nicolò del 2005 tra l'altro è anche una promessa del basket e questa è la foto che pubblicò diversi mesi fa appunto Matteo Malaventura con la maschera d'ossigeno nei giorni più duri del ricovero e lui dice dopo mesi non sono ancora al top quindi a testimoniare insomma quello che avevamo letto che abbiamo letto poco fa anche sul resto del Carlino l'intervista insomma ci sono degli strascichi in realtà dall'altra parte dell'oceano Donald Trump in 72 ore si è messo rimesso in piedi è uscito dall'ospedale e adesso è in campagna elettorale ma che cosa fa minimizza il covid e dice solo un'influenza lui sto benissimo e si toglie la mascherina il presidente rassicura gli americani non abbiate paura uscite di casa il pressing sui medici in visi in vista del confronto con Biden il 15 di ottobre ma i social intanto lo bloccano lo censurano la cautela di Fauci che il massimo esperto immunologo americano mette in guardia il percorso del virus non è finito la salute è ancora a rischio l'infermiera citata da Conte la ritroviamo nelle pagine interne qui siamo sulla pagina di Ancona del resto del Carlino quei dirigenti vengano in corsia con noi dice Michela Venturi che era in prima linea all'ospedale Senigallia abbiamo stipendi da fame e c'è chi guadagna soldi sulla nostra pelle premi ai dirigenti la regione adesso frena va chiarito se il lavoro extra fu per l'emergenza intervista al segretario generale Deborah Giraldi sulla delibera del super bonus per 82 funzionari finanziata negli ultimi giorni firmata scusate negli ultimi giorni della giunta Ceriscioli bisogna capire se quel lavoro extra fu per l'emergenza oppure no vorrei precisare che ad oggi non un euro è stato pagato ai titolari di posizioni organizzative occorre capire giuridicamente cosa significa svolgere attività a livello emergenziale subito mascherine obbligatorie all'aperto ma le altre prescrizioni rischiano di slittare il governo deve prima prorogare fino a gennaio lo stato d'emergenza oggi il voto alla camera poi si terrà il consiglio dei ministri però ho selezionato questa pagina dal quotidiano nazionale perché mi interessava farvi vedere questo prospettino questo questo schemino semplice semplice dove come vedete ci sono quattro situazioni con quattro livelli di protezione ecco qui facciamo molta attenzione intanto come vedete ci sono due persone una di fianco all'altra vis-à-vis una è cerchiata e quella cerchiata è la persona positiva l'altra invece non è cerchiata ed è la persona diciamo ancora sana tranquilla allora immaginiamo questa situazione nel primo livello vedete la protezione qui non c'è non esiste infatti nessuno dei due porta la mascherina quindi quello di sinistra è positivo l'altro di destra lo diventerà nel giro di qualche giorno l'altro livello quello basso siamo qui a destra eccolo qua allora livello di protezione basso perché la persona infettata la persona positiva non ha la mascherina mentre quella diciamo sana sì però anche qui il problema c'è perché se la persona positiva non ha la mascherina i droplet la saliva le goccioline vanno e quindi in un modo o nell'altro riescono a entrare e bypassare la mascherina il livello di protezione moderato quando quando la persona positiva ha la mascherina e chi invece è sano non ce l'ha qui è moderato però tenete presente che insomma non tutti sanno di essere positivi ci sono i famosi asintomatici e quindi è un problema il livello di protezione è alto quando quando come vedete sia la persona positiva sia la persona sana portano entrambi la mascherina e stanno ovviamente in tutti i casi a distanza di almeno un metro quindi la protezione è alta quando tutti e due stanno distanti e con la mascherina scusate di nuovo la la tiritera ma qui evidentemente non basta multe fino a 1000 euro se non c'è la mascherina più tamponi dall'estero il dpcm contiene norme restrittive per i contatti all'esterno sanzioni anche ai gestori dei locali che non vogliono che non vigilano scusate sui clienti le regioni possono emettere ordinanze sulla base dei contagi qui il Corriere questa mattina ancora mette le nuove disposizioni del governo con l'obbligo di mascherina di portarla con sé e di indossarla sia in chiuso che all'aperto quando ci sono persone quindi se per esempio oggi è mercoledì facciamo un esempio così pratico oggi è mercoledì a Fano per esempio c'è il mercato al di là della pioggia che potrebbe tenervi a casa ma poniamo che oggi molti di voi andranno al mercato bisogna indossare la mascherina anche se si è all'aperto perché il mercato c'è gente si sta comunque vicini e c'è assembramento ora se invece dal parcheggio della macchina andate al mercato da lì in poi insomma fate una strada dove non c'è gente o incontrate qualcuno ogni tanto ecco in quel caso non c'è assembramento state camminando non è fondamentale tenerla tenere indossata anche quando andate in bicicletta c'era un anziano ieri poverino aveva veramente con questa mascherina in bicicletta da solo su una strada non ha senso ecco quindi questo è un po il il quadro tre licei chiusi classi in quarantena il ministro dice la scuola va protetta nelle marche aumenta il numero dei contagi nei plessi ad ascoli 55 studenti positivi acquaroli la giunta e la logica dei territori l'ha sempre detto il nuovo presidente entro domenica ci sarà la squadra del governatore ieri a roma un confronto in fratelli d'italia per ciccioli si prospette il ruolo di capogruppo il pd alla resa dei conti invece i big non mollano commissariamento oggi si riunisce la segreteria regionale dove gosto li proporrà una costituente il no secco arriva da morani boldrini e manzi amati che dice ce la caviamo da soli elezioni regionali dal carlino una sola parola disastro morani il pd va commissariato subito il sottosegretario l'attacco serve l'intervento del partito nazionale che deve traghettarci verso il congresso da fano invece la tari la tassa da 267 mila euro porto le chiavi e operai in comune parla l'industriale duilio signoretti che ha 38 dipendenti e 3 milioni di fatturato lui ha 76 anni è titolare con altri soci dello stabilimento i conci ex del marmi siamo bellocchi di fano e signoretti ha questa sede nella zona industriale dicevo 38 dipendenti 3 milioni di fatturato ricevuto la cartella per lo smaltimento dei rifiuti la tari per 267 mila 333 euro uno dei tanti tartassati della città e lui dice signoretti che vedete nella fotografia sa cosa faccio io non pago e metto tutto nelle mani del mio avvocato ma prendo chiudo il cappannone con tutti gli operai vado in comune consegno le chiavi e con le chiavi anche i 38 dipendenti i cappannoni sono stati costruiti prima della crisi ora è stato dimezzato il fatturato e anche i dipendenti e poi protesta dice confindustria dovrebbe convocare tutti gli operatori invece niente intanto sul digestore anaerobico lo studio di fattibilità quello famoso è pronto si parla di alcuni po alcuni luoghi dove poterlo realizzare anche se ormai secondo me acqua passata ma comunque il digestore fattolo qui questo il titolo del resto del carlino lo studio è già superato escluso monte schiantello praticamente a pari merito invece bellocchi e l'altro sito individuato che era falcineto mentre oggi il tavolo provinciale potrebbe ufficializzare l'ipotesi talacchio ecco perché lo studio è superato perché ormai hanno deciso di farlo probabilmente a talacchio secondo la società non è vantaggiosa economicamente la realizzazione di più mini impianti intanto per quanto riguarda bellocchi e falcineto siamo nell'area fanese entrambi hanno i loro punti di forza perché perché la morfologia del territorio lì è pianeggiante anche se in entrambi i casi si tratta di aree però interessati da vincoli paesaggistici sotto invece sempre dal carlino la partita è su un altro tavolo sostiene paolo reginelli presidente di aset che si domanda quale sarà la partecipazione della società le quote della municipalizzata fanese potrebbero attestarsi sul 30 per cento e reginelli ammette a noi interessa la gestione come aset ci interessa gestire un impianto di bio di gestione per il conferimento dei rifiuti organici a prezzi calmiranti e dunque di usufruire anche delle agevolazioni statali non c'è più tra l'altro neanche come dice come si sottolinea sul giornale non c'è più neanche l'indennizzo per il comune che ospita questi digestori un indennizzo che era di circa 300 mila euro l'anno per vent'anni insomma non erano bruscolini andiamo sulla pagina di fondo del Corriere Adriatico anche qui confermata la priorità di falcinetto si fa riferimento a questo studio aset ora gioca la partita con marche multiservizi la graduatoria dei siti fanesi per il digestore oggi il presidente reginelli atteso ad un a un vertice in provincia un investimento ripagato in dieci anni ma ci aspettiamo vantaggi sul metano per 60 milioni intanto si rompe l'acquedotto provvede marche multiservizi nella nottata di domenica scorsa tempestivo intervento a cucurano di fano pochi in realtà sono stati i disagi sempre da fano Corriere Adriatico assessore senza scossoni porte chiuse invece per minardi attesa la nomina di barbara brunori se il sindaco seri esclude implicazioni con le elezioni ieri si è riunito il direttivo del partito democratico cipriani di noi città dice non ci saranno sorprese nel nel rimpasto di taglio basso dalla pagina di far del Corriere sport e inclusione nel nome di italo nannini il fondatore dell'africa chiama o competizione di calcio a 5 nella settimana africana ora un torneo regionale siamo sulla ancora sulla pagina 3 del Corriere Adriatico piazza costa è di nuovo un parcheggio finita con tre mesi di anticipo la sperimentazione della chiusura al traffico avviata a luglio mancava l'arredo e l'uso mattutino a mercato ha ostacolato strutture fisse dei pochi locali lega no alla ztl anche in via cavur e poi sotto raccolti 105 kg di rifiuti alla foce del metauro da pesaro invece tasse rimborsate per tre anni a chi aprono una nuova attività le agevolazioni comprendono anche la tari il comune rilancia la no tax in tutta la città stesse condizioni anche per gli studi professionali under 40 un investimento di 300 mila euro la cronaca ragazza in overdose al parco miralfiore salvata da un passante che l'ha vista a terra a 22 anni è ricoverata all'ospedale indagano i carabinieri dopo il decesso di urbino si teme una partita tagliata male una badante invece spilla 3000 euro alla sua assistita per giocare alle macchinette alle slot inchiodata dalle telecamere dei banco ma tappateggiato la condanna a un anno e due mesi chiarezza invece sul futuro della briciotti i sindacati contrari all'ipotesi di una chiusura in favore del galantara basta impoverire il territorio garanzia per il personale trasferito a pesaro e subito fondi per ristrutturare definitivamente la rsa il carlino rsa paricolante sindacati all'attacco magnoni minimizza ma cosa ne sanno il caso della briciotti di montbaroccio evacuata cgl cisla dicono da anni dicevamo che la struttura era inadeguata intanto l'ente dice faremo due perizie geologica e statica ma l'immobile è sicuro una nuova linea di autobus navetta dedicata al mercato del mercoledì siamo sempre a pesaro la proposta degli esercenti in attesa che il comune mantenga gli impegni sul maxi parcheggio lavoro nero norme violate e un arresto per caporralato sono controlli anti covid c'è il bilancio dell'ispettorato nel mirino bar ristoranti locali e anche fabbriche intanto nuova ondata di contagi giro di vite della prefettura uso di gere mascherine distanziamento e movida più forze dell'ordine per effettuare il monitoraggio attenzione specifica al trasporto pubblico e in particolare quello scolastico dopo la riapertura degli istituti basta lezioni da casa marconi quinta in rivolta i liceali dello scientifico manifesteranno domani al campus il preside rossini dice tutelare innanzitutto la salute ma lo studio a distanza è una vera corsa ad ostacolo intanto il bollettino di ieri 35 sono i positivi c'è un altro ricovero tutti i dati sul carlino di questa mattina intanto il prefetto di pesero sollecita controlli sulle mascherine e gli spazi negli autobus e sugli spazi degli autobus va detto che anche noi riceviamo tanti tanti messaggi gli stessi studenti ci mandano fotografie video di assembramenti di situazioni davvero molto al limite questa è una situazione che preoccupa ovviamente anche i genitori a casa che mandano i figli e il viaggio per andare a scuola il viaggio non è di due minuti quindi ci si sta più di 15 minuti tutti è importante che indossino la mascherina perché abbiamo visto prima nel grafico basta uno che non la porta e se quell'uno è positivo fa un disastro adesso fateci tornare in classe dicono i ragazzi la didattica a distanza non funziona lettera degli studenti delle quinte del marconi troppi disagi e per il distanziamento lo spazio non c'è da vale foglia re tartufo rinviata la fiera nazionale ma ristorante e punti vendita restano aperti a qualagna il sindaco lisi dice assembramenti inevitabili preferiamo salvaguardare le persone ci vediamo nel 2021 mentre l'altra pagina di urbino dal carlino cultura e patrimonio firmato il protocollo l'obiettivo migliorare tutela e valorizzazione del territorio il sindaco gambini le nostre tradizioni vanno assolutamente salvaguardate sotto gli trovano droga nell'abitazione nei guai un giovane di fermignano trovati oltre 700 grammi di marioana marioana chilometro zero titola il corriere di urbino operai nei guai la coltivava al lago per venderla in casa blitz anti droga nel centro storico di fermignano arrestato un 24 anni poi condannato a dieci mesi la parrocchia universitaria invece apre l'anno accademico a san domenico con la messa ufficiata dall'arcivescovo giovannitani oggi alle 18 ateneo a pieno regime grazie all'ufficio prevenzione la prospettiva del rettore nuovo rettore calcagnini dice dobbiamo garantire metodo e strumenti andiamo avanti dalla valmetauro violenze ripetute sui genitori siamo a terre roveresche condannato a due anni e quattro mesi arrestato a febbraio adesso torna libero proprio a casa di padre e madre la storia di un 33enne di orciano ora terre roveresche del burrascoso rapporto con i genitori fossombrone tari aumentate in quattro anni del 30 per cento secondo chiarabilia il sindaco bonci aveva risorse per ridurre la tassa a tutti acqualagna niente fiere del tartufo per la prima volta nella storia dopo 54 edizioni non ci sarà la giunta deliberato di rinviarla nel 2021 a cagli istituto celli in prima linea nella prevenzione tutti gli accorgimenti necessari per garantire sicurezza e distanziamento a studenti e docenti val cesano invece ancora dal corriere il cammino della val cesano dal mare alla vetta del catria la sperimentazione di cinque amici 70 chilometri da percorrere in tre giorni mentre sulla pagina della val cesano di del carlino paura la fermata dell'autobus il comune ci mette mano la fermata è questa che vedete nella fotografia il sindaco è quello di mondolfo nicola barbieri il comune dicevo ci mette una pezza una mano statale pericolosa finalmente battaglia vinta dai residenti di marotta nord lo spazio d'attesa verrà arretrato e ampliato e ci saranno una piazzora rialzata una pensilina e anche luci al led ponte 2 giugno da senigallia partono i lavori il nuovo sarà pronto per natale verrà demolito ricostruito stasera un'assemblea per illustrare le modifiche alla viabilità poi torna il mercato in piazza simoncelli la politica sulla prima di del carlino di senigallia non siederò in consiglio farò il medico fabrizio volpini dopo la sconfitta non nasconde l'amarezza ho perso la maggioranza dei cittadini ma gli elettori vingono sempre l'esponente del pd lascia il seggio e forse è pronto ad abbandonare il partito intanto pd il segretario donatiello lascia mangialardi città divisa a metà volpini scatta il time out con la politica mi dimetto da consigliere comunale il corriere il candidato sindaco sconfitto l'esito del voto brucia lasciare il pd di sicuro torno a fare il medico poi la consegna della fascia il saluto ai dipendenti inizia il governo livetti il neosindaco di senigallia priorità alle promesse fatte ai cittadini poi il lavoro da avvocato conto molto sui lavoratori per il buon funzionamento della macchina comunale governerò nella massima trasparenza il titolo del carlino sul neosindaco livetti che è entrato ieri in comune per conoscere i dipendenti la partecipazione dei cittadini sarà cruciale chiudiamo con chiudiamo mancano due minuti allora sofia tra gli alunni del collegio è una una trasmissione seguitissima dai giovani c'è questa ragazza di 15 anni di pesaro che è stata scelta sorpresa per partecipare al noto programma tv la prima puntata andrà in onda il 27 di ottobre su rai 2 in prima serata e qui in questa intervista parla il padre di questa ragazzina di 15 anni che è entrata appunto nel collegio che andrà in onda su rai 2 lo sport vis vis pesaro a ravenna con qualche modifica galderisi sottolinea nessuna bocciatura i giovani hanno bisogno di tempo e il fano a carpi prova a saltare un altro scoglio gli emiliani a punteggio pieno al cabassi non sarà facile mancherà ancora carpani diversi ballottaggi da risolvere vl invece il basket serena l'unico problema sono gli incassi la situazione di classifica è considerata normale mentre preoccupa la mancanza dei tifosi all'interno del palasport è tutto grazie per aver seguito occhio giornali ci vediamo stasera alle 20 e 30 con la il telegiornale occhio alla notizia arrivederci ci vediamo stasera alle 20 e 30 con la il telegiornale occhio alla notizia ci vediamo stasera alle 20 e 30 con la il telegiornale occhio alla notizia